Il dato dell'accoglienza, il confronto, il 15 maggio, è riusciuta a inclinare la forte ingiunta comunale a Paolo. Anzi, invitiamo l'assessore Brometti a venire sabato mattina anche a pomeriggio a confrontarsi con noi, perché appunto il dato del dialogo, dell'accoglienza, del come si costruisce una buona inclusione in città e sui canti, la Brometti è stata l'unica assessore ingiunta a dimostrare appunto cosa voglia dire l'importanza di questo contenuto politico che è stato a Paolo raccoglie e che continua ad essere. E questo è lo spirito.